Let's go bitches, benvenuti a un nuovo episodio di Power Personal Trainer Come stai vedendo in sottofondo non c'è sonoro ma perché questo è diciamo il metodo principale di questo nuovo episodio che tratterò fra poco prima cosa voglio soffermarmi una piccola cosa, spero che abbiate visto tutti il video su Battlefield 4 che ho fatto quindi se non l'avete fatto andatela a vedere oltre a questo vi parlerò praticamente di questo metodo, di questo piccolo allenamento che potrete fare prima di tutto ho già trattato questo allenamento in Power Personal Trainer su Black Ops 2 sempre riguardante il multitasking quindi ora passiamo al metodo vero e proprio allora come poter fare a riuscire a fare più cose contemporaneamente cioè non solo a sparare e girare per la mappa ma sempre essere consapevoli di ciò che ci circonda di dove spawn i nemici, dove sono i compagni, quali sono le zone morte, quali sono le zone cieghe che non sappiamo dove sono i nemici eccetera eccetera bene, questo è un metodo secondo me molto redditizio da usare perché vi consente piano piano di acquisire sempre più consapevolezza di ciò che vi circonda come fare? Ben, devi andare nelle opzioni del gioco abbassare il volume di gioco a zero e giocare in questo modo qualche partita magari per qualche giorno o fare 5-6 partite così questo cosa succede? non avendo il sonoro sarà molto più difficile capire prima di tutto da dove vi sparano i nemici quando vi sparano, se c'è un esplosivo vicino a voi, se c'è uno che cammina vicino a voi tante altre cose attraverso questo metodo dovrete sempre dare un occhio alla mappa quindi ogni 8 secondi dovrete sempre lanciare un occhio alla mappa per capire quello che succede intorno, dato che non avrete il suono, il senso del suono quindi avrete 4 sensi, non più 5 che vi aiuta a capire ciò che succede durante la partita quindi il mio consiglio è, una volta tolto il sonoro di cercare di guardare ciò che vi circonda per tutto nella visuale dare sempre un occhio alla mappa per capire per tutto dove potrebbero essere i nemici seconda cosa, dove spawnano i nemici dove sono i vostri compagni quali sono le zone non coperte e così via ovviamente ci saranno dei contro a questo metodo perché non è proprio facile uno di questi per tutto è che non saprete mai se avrete un ID accanto, una Claymore, un IMS ci sarà un cane o un tizio che cammina vicino a voi però anche questo vi aiuterà non solo ad aumentare il multitasking cioè a guardare mappa, gioco, mappa, gioco ma anche i vostri riflessi perché vi capiterà tantissime volte male di girare l'angolo e innescare un ID e dover scappare perché lo vedete questo magari affina anche la vostra vista, i riflessi e il multitasking è una cosa, lo so, come ho detto, già molto difficile da fare non è proprio semplicissimo come Power Personal Trainer so che riceverò molti insulti e sarà difficilissimo, vi farò sclerare ma affidatevi giocare in questo modo per un po' aumenterà veramente la vostra bravura su Call of Duty Ghost è veramente un allenamento difficile ma redditizio spero vi sia piaciuto questo Power Personal Trainer quindi vi lascio alla fine del video e bella bitches al prossimo video e poi vi lascio alla fine del video